Allora sono le 19.40 quindi direi di iniziare il numero tra l'altro dei partecipanti è indicativamente quello previsto per cui iniziamo la serata anche perché di contenuti ce n'è parecchi questa sera. Allora io vi rubo qualche minuto per darvi qualche informazione tecnica soprattutto sulla piattaforma di questa sera. Vi anticipo che da questo momento la serata è registrata, la registrazione è finalizzata da un uso interno semplicemente a scopo di eventualmente poterlo rivedere per quanto riguarda i contenuti. L'altra cosa che vi chiedo ma vedo che siete tutti assolutamente già preparatissime è quello di spegnere e silenziare i microfoni. Lo ricordo, l'ho detto prima, per silenziare il microfono occorre cliccare sul primo tasto a sinistra che vedete sullo schermo e silenziare il microfono che deve diventare rosso. Altra informazione ci saranno una serie di contenuti e di interventi su diverse tematiche. Nel caso ci siano questioni o domande specifiche quello che vi chiedo per non andarci a incrociare appunto con gli audio. Se sono questioni di carattere diciamo generale che possono interessare tutti i partecipanti se lo potete eventualmente indicare nella chat. La chat è quel tastino che vedete con i due fumetti a destra dei due omini cliccando lì sopra si apre una chat come quella di WhatsApp insomma una messaggistica e segnalate la domanda in modo che io posso in qualche modo segnarmi i contenuti e a fine degli interventi chiedere ai relatori spiegazioni. Rimarrei comunque d'accordo anche con i colleghi che eventuali quesiti più specifici li potete girare via mail e vi verrà risposto ovviamente in modo puntuale specialmente se i quesiti sono di carattere aziendale e molto puntuali. Eventualmente se necessitate in chiusura degli interventi di fare una richiesta specifica potete alzare la mano la manina è quella che vedete cliccando sopra vi prenotate per gli interventi e poi vi chiamiamo a conclusione del appunto della parte di interventi dei relatori. Questo è quanto rispetto un po' alla parte tecnica. Io vi rubo ancora qualche minuto per la presentazione del contesto in cui questo evento di questa sera si inserisce. Vi condivido lo schermo così vi proietto giusto due slide ma solo per darvi una piccola presentazione della cornice. Spero che ci sia modo di poter condividere il contenuto. Comincio ad anticiparvi che questa serata si inserisce all'interno del progetto FAMI. Il progetto FAMI Buonaterra è un progetto di carattere ministeriale promosso dal Ministero dell'Interno. Sono progetti che hanno come scopo quello di favorire l'integrazione lavorativa e sociale dei lavoratori all'interno dei lavoratori stagionali sui territori, in questo caso nel Saluzese. Non so se avete modo già di vedere la condivisione, ma mi pare che in questo momento non si veda. No? Ok, allora intanto chiedo aiuto magari al collega se eventualmente mi dà una mano in questo senso. Intanto vi anticipo un po' i contenuti. Il progetto FAMI Buonaterra è un progetto il cui capofila è Regione Piemonte. Col Diretti Piemonte rientra tra i partner. Alcune delle azioni del progetto Buonaterra sono in capo appunto a Col Diretti Piemonte. Fra questa attività c'è anche un'attività di sensibilizzazione e di informazione rivolta alle aziende agricole. in particolare sul tema della rete del lavoro agricolo di qualità, che è uno dei temi appunto che si affronterà questa sera. Pertanto questo di questa sera è il primo degli appuntamenti proprio in programma su questo contenuto. Mi sa che non riesco a farvi vedere lo schermo, vedo facce che mi dicono di no. Ok, mi sentite però? Ok, perché in questo momento tutto è bloccato. Si sentiamo. Ok, perfetto. Tra le attività che rientrano nelle azioni previste per Col Diretti Piemonte ci sono appunto queste di attività di sensibilizzazione, di informazione e una parte legata invece all'attività diciamo di promozione dell'agricoltura sociale sui territori. Su questo aspetto ci sono delle azioni che devono essere ancora previste, però insomma si partirà probabilmente con la tarda primavera con le prime azioni. Io non vi rubo altro, anche perché speravo di potervi proiettare le slide, ma eventualmente se riesco lo farò in chiusura. Intanto passo la parola al collega Mario Dotto, segretario zona di Col Diretti Saluzzo, per una piccola parte introduttiva e poi entreremo nel merito proprio degli interventi. Prego Mario. Maria Chiara, buonasera a tutti. Io faccio solo una piccola premessa iniziale sia sul discorso del perché il FAMI e perché questo appuntamento in questa serata che uno può, alla luce degli ultimi avvenimenti in campagna dei giorni scorsi, ritenere un po' fuori luogo. Purtroppo sappiamo tutti che le gelate dei giorni scorsi hanno messo a dura prova le colture, specialmente quelle frutticole e la preoccupazione purtroppo fondata che quest'estate il problema della mano d'opera per la raccolta sia veramente il più piccolo problema che possa avere le aziende, c'è. Però va anche detto che non tutta la produzione è persa, lavori e campagna ne rimarranno, c'è comunque una necessità delle aziende di reperire mano d'opera che in questo momento avviene con dei canali un po' approssimativi, ma così è, non solo in agricoltura, però si sta facendo uno sforzo già da anni e il FAMI è solo una parte degli sforzi che la categoria che rappresentiamo e che qui presente per una parte il collegamento sta facendo non da ieri ma da una decina di anni a questa parte, c'è uno sforzo grande sull'integrazione, sull'ospitalità dei lavoratori, in questo caso parliamo di africani ma anche di altre elnie che puntualmente tutti gli anni tornano sul territorio per darci una mano per la raccolta perché comunque, che se ne dica, senza questi lavoratori qua, molta frutta rimarrebbe sugli alberi. Tornano tutti gli anni, in alcuni casi si stabiliscono nei nostri territori, vivono qua con le nostre famiglie e le aziende agricole, mi piace ricordarlo, e purtroppo non viene mai troppo spesso ricordato perché si evidenzia sempre molto il lato più negativo o quei pochi lati negativi che ci sono, le aziende agricole sono le prime che danno l'esempio su quello che è un'integrazione di lavoratori che giungono sul territorio. Abbiamo una storia trentennale o quarantennale su questo discorso qua che fa solo onore alla categoria, cominciando dall'esperienza con i leccesi, con gli extracomunitari dell'est, con i cinesi, con adesso la migrazione subsahariana, quindi da quel punto di vista lì sicuramente la sensibilizzazione di cui parlava Maria Chiara è molto molto avanti. FAMI vuole essere un piccolo strumento per fare una prova, se riusciamo tra le altre cose, a creare un qualche sistema di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro che non sia invasiva, che non sia vincolante, ma che sia di supporto per le aziende. Vuole anche essere un piccolo strumento di aiuto a una formazione che le aziende fanno già, perché il primo giorno di lavoro si spiega ai lavoratori cosa vengono a fare, quali sono i piccoli o grandi rischi dell'attività e cerchiamo di mettere un po' in fila queste attività che già molte volte si fanno. Cerchiamo anche di valorizzarle perché ritengo che al di là di quello che dicevo prima, dei titoli negativi che qualche volta qualche giornale si diverte a mettere, c'è molto di buono da far uscire fuori e io mi auguro che il progetto FAMI aiuti, se non in modo tangibile economico, ma in modo un po' più a livello comunicativo, a far passare non un quadro nuovo dell'agricoltura e di chi assume, a far passare quella che è la realtà, cioè qui tutti gli anni arrivano dai 10 ai 15 mila lavoratori che, parlo dell'area del frutticolo, che non è solo saluzzo, però la parte grande è qua, che vengono per la gran parte al di là di quello che sono gli obblighi di legge e questo va ricordato, al di là degli obblighi di legge vengono accolti delle aziende e molte volte lavorano, spesse volte lavorano a stretto contatto con il datore di lavoro, cioè si creano anche degli ambiti familiari che fa male quando vediamo qualche campagna più o meno strumentale di denigrazione di quello che si fa, quindi mi auguro, adesso passiamo veramente a qualcosa di un po' più interessante di quello che posso dire io, che la serata, che come diceva Maria Chiara, è la prima di una serie, spero che diventi, che mandega questa partecipazione e sia per voi interessante, che si proterà ancora nei mesi successivi, cercando di non farvi perdere troppo tempo e ricordando per il discorso gelo che comunque ci stiamo attivando a tutti i livelli, dalla regione al ministero, per cercare di far superare nel miglior modo possibile questo momento delicato di cui siamo purtroppo vittime. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a Mario. Allora, io intanto ci riprovo. Ok, mi dite solo se vedete, chiedo al collega solo di darmi conferma. Come dicevo il progetto Fammi Buona Terra, state vedendo? Qualcuno mi dica sì, così perché non vi vedo? Sì, vediamo. Perfetto, perfetto. Allora, il progetto Fammi Buona Terra rientra benissimo all'interno del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, le annualità sono quelle che vanno dal 2014 al 2020, il nostro progetto a cui partecipiamo parte a gennaio 2020, scadenza naturale 31-12-2020, ma abbiamo avuto la proroga, quindi probabilmente avremo un po' più di tempo, sei mesi per la realizzazione di tutta una serie di attività. Brevemente, per non rubarvi altro tempo, lo strumento del Fammi è uno strumento finanziario istituito da un regolamento europeo, l'obiettivo proprio di promuovere, come diceva anche Mario sul territorio, una gestione integrata dei flussi migratori. Queste che vedete sono le macrazioni di progetto, quindi i termini che diceva Mario si riprendono anche qua, accoglienza abitativa, l'integrazione lavorativa, gli aspetti dell'agricoltura sociale e etica e del lavoro di qualità, quindi la serata di questa sera, la parte di integrazione sociale dei lavoratori stagionali, un tentativo di incrociare domanda offerta per rendere il più possibile lineare e trasparente questo percorso, la governance della rete, quindi il partenariato tra i soggetti che entrano, diciamo che sono protagonisti in questi percorsi e azioni di comunicazione e di diffusione. Questo è giusto per darvi un quadro anche perché magari nelle prossime attività sentirete parlare del progetto FAMI e questi sono i contenuti. Ora chiudiamo la parte di apertura, la parte un po' più istituzionale e passiamo la parola a quello che questa sera è il nostro ospite diciamo esterno, il dottor Massimiliano Fiori, responsabile del processo di vigilanza dell'ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo, a lui abbiamo proprio chiesto di fare un breve intervento sul tema della rete del lavoro agricolo di qualità, quindi passo la parola al dottor Fiori, prego. Tutti, vi ringrazio innanzitutto per avermi invitato sia come ufficio che come persona, io sono il responsabile del processo di vigilanza dell'ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo, come ufficio ci occupiamo sì di ispezioni in materia giuslavoristica ma non solo e quindi anche in materia di promozione della cultura della legalità e nell'ambito appunto giuslavoristico, quindi sono molto contento anche come ufficio a nome del direttore di questo invito perché ci offre l'opportunità anche di vedere i nostri uffici in una veste diversa. Questa sera vi parlerò della rete del lavoro agricolo di qualità, provo a condividere anche io delle slide che ho preparato per riuscire a... Allora, vediamo se riesco... Allora, spero di essere riuscito, datevi un cenno perché non vedo più nessuno, quindi non so se... Allora, la rete del lavoro agricolo di qualità è un istituto giuridico di recente creazione e introduzione, in questo slide voi vedete io vi ho inserito i riferimenti normativi dove appunto è stato introdotto nel 2014 e ha avuto un successivo resta una rivisitazione nel 2016, una rivisitazione che ne ha connotato in misura ancora maggiore quella che è la vera finalità della rete del lavoro agricolo di qualità, perché adesso analizzeremo la normativa e lo stato dell'arte dello stesso, vi devo già anticipare che purtroppo tra quello che è previsto nella norma di legge e quello che è attualmente lo stato dell'arte della rete del lavoro agricolo di qualità c'è una bella differenza, perché ancora siamo in una fase di creazione e di costituzione. Molto di ciò che è previsto nella norma di legge purtroppo non è ancora stato applicato e ancora non lo ritroviamo nella realtà dei fatti. Però per capire bene di cosa si tratta e che cos'è la rete del lavoro agricolo di qualità, inizierei riportandovi quelle che sono state le parole del primo presidente della cabina di regia dello stesso, poi vi spiegherò di cosa si tratta, cioè che cos'è questa cabina di regia, il dottor Fabio Vitale che già all'alba della costituzione della rete del lavoro agricolo di qualità nel 2015 aveva avuto modo di definirlo in un certo modo e quindi lo ha definito come non tanto come un banale bollino di natura burocratica ci disse, bensì come l'esito concreto di un percorso di innovazione culturale che a seguito di puntuali verifiche preventive effettuate anche grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni di categoria andrà a comporre una griglia selettiva atta di individuare, valorizzare e premiare le aziende virtuose. Quello che oggi abbiamo della rete del lavoro agricolo di qualità è molto poco, nel senso che abbiamo purtroppo solo una parte dello stesso e cioè quello che in questo senso già il dottor Vitale aveva voluto evitare che divenisse, c'è una semplice lista di aziende virtuose. Quello che la rete del lavoro agricolo di qualità invece dovrebbe essere, vorrebbe essere invece un vero e proprio patto tra il sistema imprenditoriale agricolo e il sistema pubblico sia degli enti di vigilanza che non solo, in modo tale da creare un percorso virtuoso per tutte quelle aziende che appunto intraprendono questo cammino di promozione della cultura della legalità. La rete del lavoro agricolo di qualità è indirizzata come destinatario ovviamente le imprese agricole. Io in questa slide vi ho fatto riferimento all'articolo 2135 del codice civile che è l'articolo che definisce le imprese agricole e a una circolare dell'Inps importante perché connota maggiormente quali soggetti e imprese agricole possono essere inserite in questo ambito di riferimento. Però proprio perché vi ho detto che la rete del lavoro agricolo di qualità non è una semplice lista di aziende virtuose ma vuole essere qualcosa di più e il contesto in cui stiamo parlando oggi è proprio esattamente il contesto adatto. Attraverso le istituzioni create nella rete del lavoro agricolo di qualità possono essere stipulate delle convenzioni cui possono aderire gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura nonché le agenzie per il lavoro e altri soggetti individuati dalla cosiddetta riforma viaggi, cioè gli enti scolastici, le università. Questo perché non si tratta, come vi ho già detto, di una semplice lista di aziende virtuose ma è un insieme di soggetti che intendono intraprendere un cammino di legalità insieme. Quindi anche tutti quegli altri soggetti istituzionali e non sono soggetti destinatari di questo ambito di riferimento. La rete del lavoro agricolo di qualità è costituita presso l'IMSS, infatti poi vedremo che la cabina di regia è istituita presso l'IMSS ed è presieduta dallo stesso ente di previdenza nazionale. Come si può procedere all'inserimento nelle liste delle reti del lavoro agricolo di qualità? La legge ci fa riferimento a una serie di condizioni, di requisiti per cui le aziende possono presentare la domanda ed essere inserite in questa rete del lavoro agricolo di qualità. Le condizioni sono appunto indicate dalla norma di legge. Trattandosi di un percorso virtuoso volto a premiare e valorizzare le aziende appunto che hanno scelto la via della legalità, comunque della promozione della cultura della legalità è necessario che l'azienda non sia stata destinataria di una serie di contestazioni di illecito. Un primo numero di disposizioni che l'imprenditore agricolo non deve avere riportato sostanzialmente sono le condanne penali per tutta una serie di ipotesi di legge. Violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, quindi ad esempio reati di corruzione, concussione, delitti contro l'incolumità pubblica, quindi ad esempio tutta una serie di reati che possono riguardare ad esempio reati di incendio, adulterazione o contraffazione alimentare, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, quindi una serie di reati quali ad esempio diffusione di malattie di piante, vendita di sostanze alimentari non genuine, tra gli altri ovviamente, delitti contro il sentimento degli animali, quindi ad esempio uccisione, maltrattamento di animali, delitti di carattere fiscale, quindi in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. E poi ancora, ultimi ma non per importanza, i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602, 603 bis del codice penale, ovvero i reati di riduzione in schiavitù, di tratta, di alienazione di soggetti privi della libertà personale e di caporalato, l'articolo 603 bis che è stato anche del resto di recente riformato. In tutti questi casi l'azienda, chiaramente l'imprenditore agricolo non deve essere stato destinatario di una condanna definitiva, quindi è importante sottolineare che, poiché nel nostro ordinamento giuridico, vige il principio della presunzione di innocenza fino al passaggio ingiudicato della sentenza, solo qualora ci siano sentenze definitive che abbiano riguardato l'imprenditore agricolo, sussiste una condizione ostativa all'inserimento nella rete del lavoro agricolo di qualità. Sono condizioni ostative all'inserimento nella rete del lavoro agricolo di qualità anche l'essere stati destinatari negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative. La legge ci dice ancorché non definitive per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte delle tasse. Quindi in sostanza si tratta di due filoni, di due tipologie di infrazioni, uno in materia giuridico-lavoristica e l'altro di carattere fiscale. Per comprendere meglio l'ambito di riferimento bisogna sottolineare due cose. La prima chiaramente fa riferimento a un triennio, l'ultimo triennio. Poi un altro aspetto che riporta la norma è sanzioni amministrative ancorché non definitive. Qui è necessario fare una piccola parentesi perché il sistema di procedimento delle contestazioni delle sanzioni amministrative è un procedimento che prevede tutta una serie di passaggi in base ai quali al termine degli stessi la sanzione amministrativa diviene definitiva. È importante capire che cosa, perché ce lo dice la stessa norma di legge, che qualora sia l'imprenditore, in questo caso l'imprenditore agricolo, sia stato destinatario di una contestazione di carattere amministrativo, ma nella stessa si sia preveduto quindi una possibilità di regolarizzazione attraverso un meccanismo che viene definito di diffida, quindi indicato dallo stesso ente di vigilanza nel provvedimento di contestazione, e l'imprenditore agricolo abbia, in questo caso l'imprenditore agricolo, ma in generale il trasgressore abbia regolarizzato le inosservanze e abbia pagato la sanzione amministrativa a questo punto definita nel minimo, questo precedente non costituisce condizione ostativa alla presentazione della domanda e all'inserimento nella rete del lavoro agricolo di qualità. Un altro aspetto importante che riguarda la possibilità di accedere alla stessa rete del lavoro agricolo di qualità fa riferimento ad altre tre condizioni. Un'altra condizione è ovviamente quello di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei premi assicurativi. Un altro aspetto riguarda l'applicazione dei contratti collettivi, io qui vi ho fatto riferimento alla normativa del Jobs Act che disciplina sostanzialmente quale tipologia di contratto collettivo deve essere sostanzialmente applicato dall'azienda. Questo perché nel nostro ordinamento giuridico i contratti collettivi nazionali di lavoro sono contratti di diritto privato, quindi succede che in alcuni ambiti di riferimento ci possano essere più contratti collettivi stipulati da soggetti differenti che possono sostanzialmente essere applicati dal datore di lavoro. Onde evitare che ci sia un accesso in confronti di contratti collettivi stipulati da soggetti non rappresentativi, il legislatore in questo caso lo ha fatto, cerca sempre di individuare quelli che sono i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. In questo contesto in cui vi sto parlando oggi il contratto collettivo firmato dalla Col di Retti è sicuramente uno dei più rappresentativi a livello nazionale. Un'altra condizione ostativa alla presentazione della domanda, alla partecipazione nella rete del lavoro agricolo di qualità è il fatto che l'impresa non sia controllata o collegata a soggetto che non sia in possesso dei requisiti di cui abbiamo detto adesso, perché potrebbe benissimo accadere una situazione nella quale si crei una società di comodo, un'impresa di comodo controllata da soggetti che non hanno i requisiti solamente perché quella creata ad hoc possa quindi partecipare alla rete del lavoro agricolo di qualità e quindi risultare come azienda regolare. Quindi un'azienda che, un imprenditore che accolga tutti questi requisiti può presentare la domanda. La domanda si presenta direttamente dall'impresa agricola in via telematica dal sito dell'Inps e viene gestita a livello centrale. Una prima cosa da dire, perché potrebbe essere un timore che chiunque può avere, al momento della presentazione della domanda non si determina nessun accertamento ispettivo nei confronti dell'azienda. La presentazione della domanda non costituisce motivo perché venga intraprese un accertamento ispettivo nei confronti dell'azienda. La domanda presentata con una serie di requisiti che vengono dichiarati dall'impresa viene valutata a livello formale, quindi succede spesso anche nell'ufficio dove lavoro io che dalla sede centrale ci arrivi la richiesta di fare una verifica sulle nostre banche dati della situazione della tale azienda che ha presentato la domanda di accesso alla rete del lavoro agricolo di qualità. Quindi si fa una verifica su eventuali precedenti ispettivi o comunque sulle statue delle banche dati, quale ad esempio la regolarità nei versamenti contributivi dell'azienda. Viene comunicato alla sede centrale, l'istruttore prosegue e sostanzialmente entro 30 giorni della presentazione dell'istanza, tramite PEC dalla cabina di regia centrale viene comunicato l'accoglimento o il rigetto della domanda o eventualmente una richiesta di ulteriori informazioni. Anche nel caso in cui la domanda venga rigettata non viene a determinarsi la necessità o comunque l'input all'effettuazione di un accertamento ispettivo. Quindi sono due cose completamente slegate. Pertanto se vi fosse un qualunque timore che esporsi nella presentazione della domanda alla rete del lavoro agricolo di qualità possa comportare successivamente un accertamento ispettivo da parte dell'ispettorato del lavoro o dell'agenzia delle entrate, questo timore non esiste perché non funziona così. Qual è uno degli aspetti importanti dell'inserimento nella rete del lavoro agricolo di qualità? Ce lo dice la legge ma in realtà sarebbe stato comunque un aspetto di carattere opportunistico. Partiamo da un presupposto. Il presupposto è che sulla base degli organici, degli enti di vigilanza è inimmaginabile pensare di poter fare delle verifiche con una cadenza periodica nei confronti di tutte le aziende. Non ha senso e non è nemmeno immaginabile. Un po' perché gli uffici ormai sono cronicamente carenti di personale e un po' perché non sarebbe un obiettivo perseguibile. Motivo per cui è bene che in fase di programmazione dell'attività di vigilanza questa programmazione cerchi di essere quanto più indirizzata nei confronti di soggetti che possono essere potenzialmente in situazioni di irregolarità, onde evitare di disperdere energie e risorse nei confronti di soggetti che invece sono virtuosi e sono regolari. Ecco dunque che l'inserimento nella rete del lavoro agricolo di qualità può costituire, anzi costituisce un elemento che viene preso in considerazione nel momento in cui viene fatta la programmazione ispettiva. La programmazione ispettiva sostanzialmente ha due canali di formazione, diciamo così. Un primo è un'ispezione non legata ad una specifica denuncia, una specifica segnalazione, ma fa riferimento a verifiche nei confronti di fenomeni particolari, di stagionalità, di situazioni particolari che vengono determinate molto spesso dal livello centrale e a cascata vanno sul territorio. Ad esempio può succedere tutti gli anni che vengono programmate attività ispettive durante il periodo della raccolta della frutta, oppure durante il periodo nei momenti in cui ci sono forti fenomeni migratori. Questo tipo di programmazione di attività ispettiva è una programmazione che non è indirizzata nei confronti di una specifica azienda, ma è indirizzata nei confronti di un fenomeno, di una particolare situazione. E questa nel settore agricolo possiamo dire che rappresenta quasi l'80% dell'attività ispettiva che viene programmata. Nei confronti di questa specifica attività di vigilanza e di programmazione, il fatto che l'azienda si trovi all'interno della rete del lavoro agricolo di qualità ce lo dice la stessa legge, ma ripeto sarebbe stata anche dal punto di vista opportunistico la stessa cosa, la legge ci dice che gli INL, cioè l'Ispettorazzo nazionale del lavoro e l'IMSS devono orientare l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla rete del lavoro agricolo di qualità. Quindi cosa succede? Succede che se viene iniziato, comunque si sta per iniziare un accertamento ispettivo nei confronti di un'azienda la quale oppone l'inserimento nella rete del lavoro agricolo di qualità, quello accertamento ispettivo come è nato e immediatamente finito e non prosegue e si va oltre sostanzialmente. Questo ha delle condizioni nel senso che uno, ce lo dice la stessa norma di legge, non fa materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo perché? Perché la materia dei controlli della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non è di competenza, non è rispetto al lavoro che dell'IMSS, ma in virtù di una ripartizione di competenze di carattere costituzionale è aspettata alle regioni e le regioni effettuano questo tipo di verifiche tramite gli spazi. Un altro filo di programmazione di attenzione di attenzione di attenzione di attenzione limite sostanzialmente è quello qualora l'attività ispettiva sia resa necessaria dalle richieste di intervento provenienti dai lavoratori, dalle organizzazioni sindacali o dall'autorità giudiziare o dall'autorità amministrativa. In questi casi, nonostante l'azienda possa essere iscritta nella rete del lavoro agricolo di qualità, l'accertamento ispettivo viene comunque effettuato, proprio perché c'è in realtà un input completamente diverso rispetto a quello che è indicato. Questo è un aspetto importante, però non deve far pensare che non ci sia una forma particolare di monitoraggio nei confronti dell'azienda inserita nella rete del lavoro agricolo di qualità. La legge lo prevede, ma nella situazione di fatto attuale non è previsto un protocollo particolare di verifiche nei confronti dell'azienda stessa. Diciamo che qualora, al momento il monitoraggio è ridotto semplicemente a questo, che qualora sopraggiungano delle condizioni ostative legate ad accertamenti ispettivi, ad esempio originati da richieste di denuncia del lavoratore o da condanne particolari dell'imprenditore agricolo, il monitoraggio che ne consegue fa sì che l'azienda che era iscritta nella rete del lavoro agricolo di qualità possa essere stromessa dallo stesso. Però non è attualmente stato un procedimentalizzato, comunque un'attività di monitoraggio periodica nei confronti delle aziende iscritte nella rete del lavoro agricolo di qualità. Anche se, devo essere sincero, so che se ne parla a livello centrale, quindi di effettuare una sorta di monitoraggio di cui non si sa ancora come possa essere effettuato, ma che non necessariamente può essere ricondotto a un semplice accertamento ispettivo. Potrebbe essere anche semplicemente un monitoraggio di carattere formale sulla base sempre della interrogazione delle banche dati. Questa è la parte della rete del lavoro agricolo di qualità che esiste, quindi esistono queste rete di aziende, periodicamente, circa mensilmente, come ufficio riceviamo la richiesta di verifica, come vi ho detto, nelle banche dati di chi presenta la domanda, viene risposta e viene inserita nella rete del lavoro agricolo di qualità. Dopo vi dirò i numeri della provincia di Cuneo e in generale nazionali, ma questa è la parte che esiste. Esiste anche quindi questa lista che è resa pubblica, che come personale ispettivo durante gli accertamenti ispettivi ha in mano e quindi quando un'azienda oppone l'iscrizione nella rete del lavoro agricolo di qualità può riscontrarla e immediatamente quindi interrompere ogni accertamento ispettivo. Quello che attualmente invece non c'è è tutta la parte, diciamo, di carattere legata alle azioni positive dell'inserimento nella rete del lavoro agricolo di qualità. Vi ho fatto riferimento prima, ho fatto un cenno prima alla cabina di regia. La cabina di regia è sostanzialmente questo organo collegiale costituito a livello centrale che comprende tutti i vari soggetti che in qualche modo hanno competenze e quindi compiono la loro parte in materia di rete del lavoro agricolo di qualità. Vi ho detto precedentemente che la rete del lavoro agricolo è sovintesa da una cabina di regia presieduta dall'Inps, ma in essa ritroviamo un rappresentante del Ministero del Lavoro, uno del Ministero delle Politiche Agricole, un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno del Ministero dell'Interno, un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'Agenzia delle Entrate, dell'AMPAL, dell'Inps e della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome. E soprattutto, molto importante, fanno parte tre rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese agricole e uno delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori di lavoro ed autonomi e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatari dei contratti collettivi nazionali del settore. È importante che tutti questi soggetti siano rappresentati all'interno della cabina di regia per le competenze che ha la cabina di regia e che dovrebbe esercitare, ma che purtroppo al momento non completamente esercita. Infatti, tra le competenze della cabina di regia, a parte la deliberazione sulle istanze di partecipazione, che è effettivamente esercitata, la deliberazione sulle esclusioni, anche questa è esercitata, la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese agricole partecipanti, anche queste esercitate ed è facilmente consultabile anche da parte vostra, se accedete al sito dell'Inps, trovate l'elenco di tutte le aziende che sono inserite nella rete del lavoro agricolo di qualità, aggiornato mese per mese. Tutto quello che invece al momento la cabina di regia non sta facendo è tutto quello che vedete scritto successivamente in questa slide. Quindi al momento non si hanno notizie di monitoraggi trimestrali sull'andamento del mercato del lavoro, non ci sono iniziative in materia di politica attiva del lavoro, il contrasto al lavoro sommerso, l'evasione contributiva e alla gestione dei flussi di manodopera stagionale. Non è presente al momento alcuna relazione al Parlamento relativa all'attività della rete del lavoro agricolo di qualità ed ha anche un aspetto importante, nonostante qualche territorio, non quello in altri territori locali, soprattutto con riferimento all'adesione di alcuni soggetti esterni alla rete del lavoro agricolo di qualità. È sicuramente una situazione in divenire, il fatto che ci siano iniziative come quella a cui stiamo assistendo oggi, fa ben sperare che presto tutti gli aspetti della rete del lavoro agricolo di qualità potranno essere completamente esercitati, anche perché rappresenta un importante tavolo di riferimento visti i soggetti partecipanti dove poter formulare delle proposte anche di modifica delle normative in materia di lavoro, delle normative in generale che riguardano il settore agricolo e tutte le sue specifiche problematiche. La stessa normativa prevede che a livello territoriale la rete del lavoro agricolo si articoli in sezioni territoriali, anche in questo caso a livello locale, quindi a livello della provincia di Cuno non è stata ancora costituita la sezione territoriale della stessa e sarebbe importante una sua costituzione anche in relazione a quelli che sono i compiti che ha, poiché gli stessi compiti che abbiamo visto assegnati alla cabina di regia nazionale possono essere, cioè sono affidati anche alle sezioni territoriali e quindi rappresenterebbe un tavolo importante dove far valere la voce anche delle mondi imprenditoriali agricoli, del mondo lavorativo agricolo nei confronti di tutto il sistema degli enti pubblici, degli enti di vigilanza che sono comunque rappresentati nella cabina di regia nazionale e che lo sarebbero nelle sezioni territoriali. Un aspetto interessante e importante che la sezione territoriale potrebbe porre in essere riguarda la possibilità che avendo presenti all'interno della propria struttura collegiale anche gli enti locali, ce lo dice la stessa norma di legge, si possano condizionare anche aziende non del settore agricolo come quelle del settore del trasporto di persone, persone che in questo caso dovrebbero essere i lavoratori, in modo tale da favorire che anche questo circolo virtuoso che si instaura con la partecipazione alla rete del lavoro agricolo di qualità si possa estendere anche nei confronti di queste aziende che svolgono un'attività accessoria di trasporto delle persone e che quindi possano accedere avendo i medesimi requisiti delle aziende che presentano l'adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità alle convenzioni con la stessa rete e quindi ottenere solo in quella condizione i contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori dagli enti locali. Quindi sarebbe un sistema di ampliamento di questo sistema virtuoso previsto dalla rete del lavoro agricolo di qualità. Per concludere vi do qualche numero, voi avrete visto se accedete al sito dell'Inps li potrete verificare anche mese per mese i numeri delle stesse aziende partecipanti alla rete del lavoro agricolo di qualità, però alla data del 31 marzo a livello nazionale risultano iscritte 4791 imprese e a livello locale, cioè provincia di Cuneo, ne sono venute le iscritte 160. Per i numeri, quindi io posso darvi il raffronto con la situazione di irregolarità e di tipologia di irregolarità del territorio nazionale, quello che si può dire che sicuramente il territorio della provincia di Cuneo è sottorappresentato perché il tasso di irregolarità è molto basso, perché le irregolarità che vengono riscontrate comunque non sono di livello eccessivamente grave rispetto, faccio questo ragionamento, rispetto ad altri territori nazionali. E quindi il numero di 160 imprese agricole che in qualche modo hanno deciso di far parte di questa rete del lavoro agricolo di qualità non rappresenta un numero che è rappresentativo della situazione di qualità del settore della provincia di Cuneo e di irregolarità della provincia di Cuneo. Probabilmente c'è un po' di timore, c'è un pochino di una situazione per cui questa rete ancora non è attiva completamente, però sicuramente è un'opportunità che non va dimenticata e va presa in considerazione. Lascio la parola a chi mi segue e poi sono a disposizione per eventuali domande. Adesso tolgo solo la presentazione. Grazie, grazie dottor Fiori per la puntuale spiegazione. Ovviamente se ci sono poi quesiti specifici sul tema, ovviamente anche tramite i colleghi, eventualmente dirotteremo o in chiusura o successivamente dei quesiti, anche perché appunto il concetto della qualità rientra tra le finalità di questo progetto a cui partecipiamo. Ora passerei la parola al collega Roberto Giobergia, con l'occasione di passare la parola al collega, ringrazio anche i colleghi che sono presenti a questo video per la loro disponibilità e per il lavoro che fanno sul territorio. Roberto Giobergia, responsabile dell'area datore di lavoro col Diretti Cuneo, ci presenterà rispetto al decreto sostegno gli aspetti di carattere giuse lavoristico. Prego Roberto. Buonasera a tutti. Mi ricollego a quello che diceva Massimiliano Fiori prima, che lo ringrazio per quello che ci ha portato, per l'esposizione chiara e precisa di un tema che effettivamente è lì latente da qualche anno ed è latente esattamente per i motivi che hai sostenato te, cioè quello per cui solo una parte, quella diciamo amministrativa barra burocratica, ha una sua concreta attuazione in quell'elenco. tutto il resto è rimasto in un libro, molto dei sogni, che effettivamente anche alla luce di quello che hai esposto hanno una loro ragione d'essere, però effettivamente al momento sono in questo libro dei sogni che la legge ci ha portato. Allora, venendo all'intervento che vengo a proporvi io, faccio una breve carellata di quello che sono le novità introdotte dal decreto sostegni, dal decreto 41, l'ultimo di questa lunga serie di decreti che caratterizzano la cosiddetta legislazione emergenziale, con cui andiamo a vedere alcuni aspetti che ci possono riguardare in quanto aziende che hanno dipendenti. Allora, in questo quadro il primo tema che andrei a soffermare la nostra attenzione è quella dei cosiddetti ammortizzatori sociali covid, ammortizzatori sappiamo che sono quegli strumenti che la legge adotta per garantire una continuità all'occupazione andando a compensare situazioni in cui le aziende abbiano delle difficoltà. Sono delle situazioni in che normalmente il settore agricolo vede poco perché comunque la caratteristica del comparto agricolo è quello di avere comunque una certa continuità dell'attività lavorativa. La caratteristica è quella che i rapporti di lavoro agricoli hanno l'integrazione della disoccupazione agricola che è diciamo l'ammortizzatore sociale che serve per sostenere il reddito dei lavoratori che tra virgolette accettano un lavoro stagionale che per la sua natura è un lavoro a chiamata e quindi in quel modo si dà questa stabilizzazione del reddito per i lavoratori stagionali. Dall'altro lato nel settore agricolo abbiamo quella che vedete in questa slide, la CISO ordinaria cioè per i lavoratori, operai e impiegati a tempo indeterminato può essere richiesta la cosiddetta CISO ordinaria cioè la cassa integrazione straordinaria operai agricoli giustificata da stasi stagionali, intemperi e mancanza commesse e causali simili per un limite massimo di 90 giornate all'anno per ciascun lavoratore ed è caratterizzato dal dal meccanismo per cui l'azienda anticipa per conto quindi sono anticipazioni che poi recuperi i suoi contributi nella misura dell'80% più un 10% a carica azienda come previsto dal contratto collettivo. In questo quadro si inserisce quello che sono i cosiddetti ammortizzatori sociali covid, cioè quelli per le quali l'intervento è legato a riduzioni o sospensione dell'attività lavorativa conseguenti agli effetti economici del covid, quindi attività economiche sospese tipo quelli degli agriturismi, punti vendita, riduzione comunque di attività che sono riconducibili agli effetti economici del covid. Quello che vediamo in questa slide è il quadro degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge di stabilità 2021 che si incastra in questo momento con il DL sostegni. La cesoa covid, quindi quella per i lavoratori a tempo indeterminato, prevede un meccanismo di 90 giornate che possono essere fruite dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 con pagamento diretto IMS. Nel caso della cesoa covid già tenere conto che c'è il massimale, cosa che invece non c'è nella cesoa ordinaria. Mi soffermerei sulla cassa integrazione in deroga, lasciando da parte la cassa integrazione ordinaria che noi nel nostro settore abbiamo in pochissime casistiche se non le cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli. la cassa integrazione in deroga che invece trova applicazione nei confronti degli operai a tempo determinato, quindi i lavoratori per esempio che erano assunti o sono assunti per attività che poi sono sospese, tipo quello del creaturismo e punti vendita. In questo caso oggi la legge di stabilità stabilisce 12 settimane dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 con pagamento diretto IMS. A questa base si aggiunge, con un meccanismo che poi andiamo a vedere meglio su una tabella in base ad un'interpretazione IMS si incastra con i due, dicevo si aggiungono gli ammortizzatori sociali riconosciuti dal decreto sostegni, il quale ha attribuito 120 giornate di cesoa quindi per il lavoratore a tempo indeterminato fruibili dal primo aprile al 31 dicembre 2021. La cassa in deroga prevede 28 settimane dal primo aprile al 31 dicembre 2021. Con la particolarità, ecco qua non avevo sottolineato in questo passaggio, che gli ammortizzatori sociali della legge di stabilità 2021 viene riconosciuto ai lavoratori in servizio al 4 gennaio 2021, mentre quelli del decreto sostegni viene riconosciuto ai lavoratori in servizio al 23 marzo 2021 che è l'entrata in vigore del decreto sostegni. In questo quadro poniamo attenzione a quello che è un quadro di sintesi che nasce da un messaggio IMS che ha letto la norma del decreto sostegni non come un sostituire gli ammortizzatori introdotti dalla legge di stabilità, come un incastrare i due, quindi creando questo meccanismo su cui adesso non vado poi in dettaglio a entrare, quelle aziende interessate che hanno bisogno di approfondire con il nostro ufficio lo possono fare nel dettaglio, comunque andando a incastrare il meccanismo per cui poniamo attenzione alla CISOA per esempio questa in fondo, vedete io posso fruire di 90 giorni dal primo gennaio al 30 giugno 2021 e altri 120 giorni dal primo aprile al 31 12, con l'effetto che se per esempio io ho fruito di tutti i 90 giorni nel periodo gennaio marzo, ad aprile posso già aggiungere quelli del decreto sostegni, quindi con questo meccanismo di sovrapposizione che nasce appunto da questa interpretazione che l'IMS ha dato con il messaggio 1297. Legato al meccanismo dei ammortizzatori sociali c'è il tema del divieto di licenziamento per motivi economici, chiaramente va sottolineato che si tratta di divieto di licenziamento per motivi economici, cioè quindi è chiaro che rimangono aperti eventuali spazi per i procedimenti, i licenziamenti di tipo disciplinare ovviamente. In questo caso stiamo assistendo a una scelta che il legislatore ha fatto sin dall'inizio della legislazione covid, quindi da un anno a questa parte, quella di creare un meccanismo per cui da un lato do ammortizzatori sociali, dall'altro lato crea un meccanismo di divieto di licenziamento. Credo che dal punto di vista politico ognuno possa fare le sue valutazioni, è chiaro che in questo momento il legislatore credo che si trovi di fronte a una situazione intricata dove è chiaro che il cosiddetto stacco della spina che inevitabilmente prima o poi occorrerà mettere in conto, è chiaro che rischia poi di scontrarsi con un po' l'effetto bolla che il divieto di licenziamento può aver creato. Comunque, a parte questo, per le aziende agricole, perché anche qui poi il meccanismo, consentitemi la battuta, la semplicità non è proprio nelle corde di chi fa le leggi nel Parlamento italiano e di chi tantomeno le suggerisce, per cui tutto effettivamente deve essere un po' complicato, quindi anche i termini del divieto di licenziamento ovviamente non possono essere unici, ma se io sono un'azienda che ha la possibilità di usufruire della CISOA o della cassa inderoga, il divieto di licenziamento va fino al 31 ottobre 2021, se sono un'azienda che usufruisce della cassa indegrazione ordinaria o invece divieto di licenziamento fino al 30 giugno 2021. Non mi soffermo qua chiaramente a approfondire quali sono i motivi di questa scelta, prendiamo atto che le imprese agricole che accedono alla CISOA e alla cassa inderoga hanno il divieto di licenziamento per motivi economici fino al 31 ottobre 2021. Non è direttamente collegato al decreto sostegni, ma comunque fa parte della normazione Covid di questi mesi, farei un cenno ai congedi Covid, che sono i congedi che possono essere fruiti dai genitori con figli in dad o figli che abbiano infezione da SARS o figli che siano in quarantena in quanto contatto stretto con malato di Covid. In questo caso la legge riconosce dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 la possibilità di un congedo al 50% della retribuzione se il lavoro che il lavoratore fa non può essere svolto in smart working, altrimenti la legge dice che il lavoro va svolto in smart working. Nel caso di situazioni di quelle legate relativi a figli tra i 14 e i 16 anni, il lavoratore che non possa svolgere l'attività lavorata in smart working può chiedere un permesso non retribuito con ovviamente la tutela del divieto di licenziamento. Sempre legato alla normativa di questi periodi, farei un cenno a un tema che chiaramente ci riguarda direttamente, che è quello della proroga dei permessi di soggiorno anche stagionali, questo nasce dalla situazione per cui le difficoltà di mobilità delle persone e anche le difficoltà organizzative che chiaramente gli uffici possono avere, il legislatore già la scorsa estate e poi di nuovo con il decreto 2 2021 ha prorogato i permessi di soggiorno anche stagionali fino al 30 aprile 2021 e poi adesso vedremo con il 30 aprile cosa succederà. Ponendo attenzione a quello che sono gli aspetti un po' peculiari di quello che è la normativa emergenziale, vorrei l'attenzione su quello che sono gli zone ricontributivi che hanno caratterizzato il settore agricolo. Qui chiaramente io faccio riferimento solo alla parte relativa alle aziende condipendenti, quindi la parte relativa ai contributi dovuti per i lavoratori dipendenti agricoli. In questo caso abbiamo due interventi, uno è l'articolo 222 del DL 34 che è il decreto rilancio che ha previsto l'esonero per la quota a carico datore lavoro relativa ai contributi dovuti per il primo e secondo trimestre 2020, quelli in concreto in scadenza il 16 settembre e il 16 dicembre 2020. In questo caso il legislatore ha individuato le aziende beneficiarie dell'esonero con un elenco allegato al DM 14 settembre 2020 che vedete citato, un elenco che ha dei buchi noti che riguardano in particolare il settore frutticolo e il settore orticolo. Su questo esonero è proprio di ieri la circolare IMS che arriva a dare le istruzioni per portare a casa l'esonero e anche qui credo che non sia fuori luogo fare menzione su questa situazione dove un debito che io avrei dovuto o pagare o vedermi riconosciuto l'esonero al 16 settembre arrivo al 12 marzo ad avere le istruzioni, quindi vuol dire che abbiamo passato sei mesi di limbo senza chiarezza. Un secondo pacchetto di esoneri riguarda la quota carico azienda relativo ai mesi di novembre, dicembre e poi successivamente è stato esteso anche a gennaio del 2021 previsto appunto dal decreto 137 cioè quindi il decreto ristori, la legge di conversione del decreto ristori. Anche qui voglio dire ovviamente siamo ancora nel limbo perché se ieri siamo arrivati ad avere le istruzioni su quelli di settembre è chiaro che oggi non abbiamo ancora quelli di novembre, dicembre e gennaio quindi attendiamo fiduciosi che arrivino indicazioni su questo senso. Un cenno possiamo farlo su un paio di interventi introdotti dalla legge di stabilità, la legge in quanto il settore agricolo adesso è chiaro che con quello che sono le difficoltà conseguenti al gelo certamente tutta una serie di situazioni ovviamente non avranno un seguito come forse avrebbero potuto però comunque il settore agricolo ha per sua caratteristica quella di avere una certa continuità dell'occupazione e quindi anche la possibilità di vedere delle agevolazioni per la stabilizzazione quella prevista relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nel bienio 2021-22 e quelle delle assunzioni femminili possono avere un loro interesse. Brevemente per quanto riguarda la stabilizzazione si riferisce appunto alle assunzioni a tempo indeterminato nel bienio 2021-2022 di lavoratori che non abbiano mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. In questo caso si tratta di un esonero per la durata massima di trentaseiesi mesi nel limite massimo di importo pari a sei mila euro per la quota a carico dato lavoro. Per quanto riguarda le assunzioni femminili l'agevolazione riguarda l'assunzione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato vedete sotto fino a 12 mesi se tempo determinato fino a 18 mesi se tempo indeterminato che può avere un certo interesse nella misura in cui si va a fare assunzioni di donne di qualsiasi età che svolgono professioni e attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un'accentuata di sparità occupazionale di genere tenendo in considerazione che il settore agricolo è considerato uno di questi settori quindi l'assunzione di una donna che è priva di un impiego gradualmente retribuito da almeno sei mesi consente di poter accedere a questa agevolazione. Un'agevolazione che qui io non ecco chiedo scusa mi soffermo ancora un secondo sul fatto che l'agevolazione per l'assunzione femminili riguarda la quota a carico dato lavoro una misura fino al cento per cento nel limite sempre dei 6 mila euro annui e richiede l'incremento occupazionale netto che è una condizione abbastanza delicata e complessa che va chiaramente valutato significa che io ho x persone con l'assunzione di quella persona nei mesi in cui vado a chiedere quell'agevolazione devo aver avuto l'incremento occupazionale netto che appunto con la stagionalità dell'attività agricole è ovviamente un paletto non proprio facile da monitorare e il 2 da ottenere. E concludo con un tema che chiaramente è sempre di attualità avendo un vaccino di utenza di lavoratori provenienti da paesi stranieri che quindi o arrivano solo per le attività stagionali o magari sono qua che però magari hanno per esigenze personali fatto ritorno al loro paese quelle che sono le regole di ingresso da paesi stranieri previsti dalla normativa covid. Ne parlo soprattutto perché rispetto all'impostazione che ormai da qualche dpcm avevamo cioè che dai paesi comunitari si arrivava con tampone fatto nelle 48 ore antecedenti o la quarantena di 14 giorni con l'ordinanza prima del 30 marzo e poi del 2 aprile del ministro della salute è stato aggiunto un meccanismo un po' più complesso per chi proviene dai paesi comunitari con sempre il tampone nelle 48 ore antecedenti all'ingresso 5 giorni di quarantena più un ulteriore tampone dopo i 5 giorni. In alternativa il lavoratore può fare i 14 giorni di quarantena diciamo base classici. In entrambi i casi da ricordarsi che va fatta la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Asile. Nel caso di lavoratori che provengono da extra-UE io qui cito Albania, Malocco, India ma chiaramente sono tutti quelli extra-UE e esclusi dall'elenco C perché in realtà la risposta esatta è elenco C per cui anche chi arriva dal Regno Unito che in questo momento non è paese comunitario ma è nell'elenco C e quindi rientra nella prima ipotesi quella rossa nella slide. Quindi dicevo chi invece entra da paesi extra-UE la regola è quella della quarantena di 14 giorni con la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Asile. Quindi questo è un po' il quadro attuale della situazione che è nata, credo che possiamo anche sorridere un attimo di fronte a questi interventi normativi che io considero effetto mediatico nel senso che dopo la polemica di chi andava a Pasqua alle Canarie il Ministro ha introdotto questo meccanismo delle cinque giornate, cinque giorni di quarantena che fino al giorno prima non erano considerate necessarie. Io con questo avrei concluso la mia parte quindi vi ringrazio e rimango a disposizione. Grazie, grazie Roberto. Se ovviamente ci sono questioni e quesiti eventualmente in chiusura passiamo la parola in questo momento a Mario De Piscopo, responsabile dell'area fiscale di Colliretti Cuneo. Il suo intervento sarà dedicato più agli aspetti di carattere fiscale sempre legati al decreto sosteni. Prego Mario, a te la parola. Buonasera, diciamo che procederemo a una carrellata abbastanza celere di quelli che sono poi aspetti fiscali di interesse calati sia nel decreto sosteni di cui almeno da poche ore abbiamo già notizia del successivo prossimo decreto sosteni bis già all'attenzione del governo e sicuramente diciamo adesso con la condivisione partiremo da quello che è diciamo l'aspetto sicuramente più significativo per quanto a nostro avviso ancora insufficiente riguardante la previsione di contributi a fondo perduto cioè per il sostegno diciamo alle imprese che abbiano avuto chiaramente delle situazioni di difficoltà in occasione della pandemia quindi diciamo adesso provvedo a condividere la schermata e cominciamo un attimo non so se la vedete si vediamo Mario grazie grazie allora scusate ancora allora come dicevamo allora il decreto sosteni è previsto all'articolo 1 diciamo questa misura di contributo a fondo perduto per le imprese chiaramente incluse le agricole che abbiano subito diciamo un nel 2020 un ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi inferiore ad almeno il 30% dell'analogo ammontare riferito al 2019 e salvo poi per i soggetti che abbiano attivato una partita IVA dal 1 gennaio 2019 prescindere invece dal riscontro e dalla verifica appunto del requisito di questo calo del 30% quindi le partite IVA che sono state attivate a partire dal 1 gennaio 2019 conseguiranno diciamo così un ammontare chiaramente di contributo a fondo perduto che prescinderà dalla verifica di questo aspetto del calo fatturato diciamo che il contributo che fondamentalmente ricalca quello che era stato previsto anche l'anno scorso un po' per questa tipologia di situazione è abbastanza calibrato percentualmente con un minimo non può essere appunto inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche quindi per le società diciamo che è diversamente appunto calibrato a seconda del volume di affari che la impresa individuale o la società genera come vedete abbiamo un 60% 50 40 30 20 ok a seconda dell'ambito di riferimento per andare molto concretamente diciamo ad un esempio un esempio che a mio avviso appare calzante perché in prima battuta diciamo che le aziende avevano immaginato che di conseguire un contributo questo è un esempio che è stato fatto sulla base della semplice differenza ecco fra il fatturato 2020 e il fatturato 2019 invece no come abbiamo anticipato occorre innanzitutto dividere diciamo il fatturato conseguito nel 2019 e nel 2020 per i mesi di riferimento nell'esempio che qui vedete esposto ecco se ad esempio nel 2019 si è conseguito un giro di fatturate corrispettive pari a 120 mila euro occorrerà prima dividere questo importo per i 12 mesi di riferimento quindi con un esito di 10 mila ovviamente ripartiti 120 su 12 mesi e al tempo stesso fare la stessa operazione su 2020 quindi il fatturato 2020 anche in questo caso lo andiamo a dividere per 12 mesi quindi nell'esempio che qui vedete se invece nel 2020 io ho fatto anziché i 120 mila magari del 2019 ne ho fatti 60 mila quindi una bella perdita consistente divido sempre quei 60 mila per 12 mesi ok con esito in questo caso di 5 mila e a quel punto lì noi andiamo a fare una differenza fra questi ammontari medi e quindi nell'esempio che vedete fra 10 mila e 5 mila e quindi nella sostanza 10 mila meno 5 mila abbiamo di fatto come differenza sempre 5 mila e su questa differenza applichiamo la percentuale di contributo aspettante che nella fattispecie perché è del 50% perché come se viste nella slide precedente occorrerà vedere nel 2019 come si posizionava l'azienda insomma come fatturato in questo caso se vedete nel rigo 2 per ricavi inclusi fra i 100 mila e 400 mila euro cioè cioè il caso dell'esempio qui proposto di un'azienda che nel 2019 faceva 120 mila euro in fatturato ai corrispettivi avremo appunto un contributo in questo caso aspettante nella misura del 50% sempre appunto applicato su questa differenza quindi questa differenza fra montare i medi mensili ok 2019 e 2020 nella sostanza diciamo questa ripartizione per mesi comporta cosa che diciamo l'importo finale aspettante diciamo all'impresa non sia chiaramente particolarmente diciamo significativo perché è chiaro che ripartendo per 12 mesi si abbassa chiaramente la base per il calcolo del contributo diciamo aspettante come vi anticipavo adesso in discussione del decreto sostegno IBIS vedremo concretamente diciamo quale sarà la iniziativa aggiuntiva che il governo intenderà intraprendere avendo appena annunciato che i prossimi contributi a fondo perduto che si immagina di erogare saranno particolarmente cioè rivolti alle piccole imprese ovviamente diciamo per chi ha diritto al contributo le istanze dovranno essere presentate in un arco di 60 giorni fondamentalmente il termine ultimo di scadenza del 28 maggio 2021 quindi parliamo appunto appunto questo riferimento attuale la deadline prevista per l'oltre delle istanze e l'agenzia delle entrate provvederà ad accreditarle sono un po' come è già avvenuto per il presente contributo sul contocorrente bancario postale intestato al beneficiario sempre molto velocemente per le imprese incluse le agricole che abbiano chiaramente interesse diciamo ad effettuare investimenti diciamo in beni strumentali all'impresa diciamo che la legge di bilancio 2021 quindi abbandoniamo un attimo il riferimento al decreto sostegno ha rinnovato per il 2021 e anche oltre è una misura che è stata diciamo veramente di grande interesse anche per l'ambito agricolo che forse ecco per la prima volta ha avuto diciamo così la possibilità di beneficiare di un credito d'imposta quindi nella sostanza di una leva fiscale di vantaggio ok che tempo addietro era stata per lo più immaginata per altre tipologie cioè di imprese no quando esisteva il meccanismo dell'ammortamento delle quote di ammortamento dei beni strumentali meccanismo che almeno nella maggior parte chiaramente delle nostre imprese agricole che sostanzialmente attassano al reddito forfettizzato al reddito agrario chiaramente non poteva essere utilizzato invece con uno scritto d'imposta ok noi abbiamo una misura molto innovativa importante che ci consente fondamentalmente di recuperare sul nostro investimento che andiamo a fare in beni strumentali una percentuale di credito credito che sarà compensato per abbattere tributi anche contributi ok previdenziali diciamo che la misura fondamentalmente prevede cosa diciamo che occorre fondamentalmente distinguere due tipologie di beni ok strumentali in cui si va ad investire abbiamo una prima classificazione di beni da considerare tra virgolette ordinari ordinari nel senso che non possiedono delle caratteristiche di innovazione tecnologica tali da includerli nel nuovo dei beni strumentali cosiddetti industria 4.0 cioè per intenderci i beni ordinari sono beni un po' classicamente diciamo intesi e individuati per differenza ecco rispetto ad altri beni che hanno una capacità ecco di interconnettersi no con sistemi anche di controllo a distanza anche tramite diciamo così palmari o smartphone eccetera e che quindi sono anche per certi diversi telecomandabili o gestibili a distanza no e quindi per i beni ordinari fondamentalmente noi abbiamo che la legge di bilancio 2021 attribuisce accorda un credito imposto del 10 per cento per i beni materiali ok ordinari quindi per questa tipologia c'è di investimenti investimenti che possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2021 e oppure anche con pagamento di acconti di almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2021 con consegna poi diciamo del bene a entro i sei mesi successivi cioè entro il 30 giugno 2022 quindi nella sostanza abbiamo tempo a tutto il 2021 per effettuare questa tipologia di investimenti oppure di pagare un acconto il 20 per cento entro fine anno di farceli consegnare entro il 30 giugno del 2022 attenzione anche il 2022 è un anno che è stato c'è previsto dalla legge di bilancio 2021 come un anno in cui ancora è possibile fare investimenti in beni strumentali beneficiando di questa agevolazione tuttavia se andiamo a fare investimenti nel 2022 il credito di imposto accordato sui beni ordinari strumentali ordinari scende dal 10 al 6 per cento quindi si riduce è chiaro che ovviamente ad oggi si ragiona sulle previsioni attuali fermo restando che in corso d'anno e magari anche nella prossima legge di bilancio ci potranno essere delle revisioni anche se necessario e magari senz'altro migliorative e invece come anticipavo per i beni strumentali materiali 4.0 la musica cambia nel senso che quel credito d'imposta che abbiamo accennato ripeto del 10 per cento sui beni ordinari quindi ordinari e o del 6 per cento per chi intende effettuare nel 2022 ecco questa percentuale per i beni 4.0 si innalza in maniera molto consistente al 50 per cento cioè traducendo se noi andiamo ad oggi a effettuare un investimento in un trattore l'esempio più classico e questo trattore ha montato anche un kit che ne consente il controllo satellitare a distanza ok e magari ad esempio questo trattore costa facciamo 150 mila euro se possiede queste caratteristiche di controllabilità a distanza diciamo tutte caratteristiche poi devono essere anche certificate tra poco lo specifichiamo ecco questo investimento di 150 mila euro da diritto ad un ritorno di credito della metà cioè di 75 mila euro di questo stiamo appunto parlando perciò è una misura sicuramente molto significativa e concreta da quel punto di vista quindi questo per investimenti ripeto nel dicembre 2021 in beni 4.0 anche qui possiamo sempre pagare a conti di almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre farci consegnare il bene entro il 30 giugno del 2022 conserveremo il nostro 50 per cento lo stesso per investimenti invece nel 2022 ok proprio ex 9 effettuati nel 2022 senza il pagamento di acconti entro dicembre di quest'anno la misura del 50 per cento scende al 40 per cento ora per tornare all'esempio che abbiamo fatto prima se io ho un investimento in trattore di 150 mila euro trattore ovviamente con le caratteristiche 4.0 e riesco a prendermi un credito di 75 mila euro io potrò chiaramente diciamo utilizzarlo come abbiamo accennato in compensazione compensazione di altri tributi o di contributi la domanda classica che giustamente viene fatta è ma magari io non ho tutti questi contributi previdenziali cioè da compensare o altre imposte diciamo così da compensare e quindi siccome questo credito di imposta prevede un utilizzo in tre quote annuali quindi in tre quote annuali c'è chiaramente il rischio giustamente che in tre quote io non riesca magari a sfruttare tutto il mio credito nell'esempio fatto di 75 mila euro da questo punto di vista nessun problema perché in occasione di un chiarimento ufficiale dell'agenzia delle entrate ok di fine febbraio 2021 è stato precisato che in realtà il credito si conserva lo stesso quindi anche se al termine dei tre anni noi ne abbiamo ancora un residuo lo possiamo riportare in avanti senza problemi fin quando chiaramente non andrà ad essere appunto completamente utilizzato ad oggi l'agenzia delle entrate ha anche per certi versi precisato anche se non in maniera ancora del tutto netta ma comunque diciamo l'apertura c'è stata ha precisato che se abbiamo facciamo un esempio una società una società semplice no agricola e la società semplice chiaramente ha effettuato il suo buon investimento nel bene strumentale diciamo che la società può anche attribuire però quota ai soci facciamo esempio ai due o tre soci ok che ne hanno le quote può attribuire anche una quota di credito d'imposta a ciascun socio a ciascun socio in modo tale che il socio possa a sua volta lui utilizzare ok in compensazione per la quindi per la compensazione diciamo di tributi e contributi che afferiscono alla sua sfera individuale ok utilizzare una quota di credito ad oggi tuttavia occorre affinché il socio possa utilizzare eventualmente in compensazione una quota cioè di questo credito che gli viene attribuito dalla sua società ok occorrerà tuttavia aver prima presentato la dichiarazione di redditi quindi il socio dovrà attendere per l'utilizzo in compensazione di aver prima presentato cioè la dichiarazione di redditi la propria dichiarazione di redditi per i beni 4.0 concludiamo un attimo con questa con la carrellata di questa misura diciamo che quindi per soltanto per i beni 4.0 poiché abbiamo detto che per questi beni l'agevolazione spetta a condizione che insomma il bene possiede delle caratteristiche di innovazione tecnologica particolari ok è necessario che vi sia una perizia cioè di asseverazione un perito che fondamentalmente attesti quindi con apposita perizia che questi beni possiedono le caratteristiche di effettiva innovazione tecnologica tali da farli includere fa beni particolarmente innovativi che davvero danno diritto a questa entità così alta di agevolazione ma sicuramente a qualcuno di voi sarà stato detto perché è giusto ed è corretto che per investimenti fino a 300.000 euro quindi investimenti con costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro non è necessario attenzione richiedere una perizia asseverata perché sarebbe sufficiente una autocertificazione da parte del titolare aziendale quindi se l'investimento si mantiene entro il tetto di 300.000 euro e l'esempio che abbiamo fatto prima è Calzanta l'esempio del trattore il cui costo unitario di 150.000 euro ecco diciamo per questa tipologia di investimento possiamo anche è possibile che il titolare autocertifichi direttamente senza necessità di ricorrere a un perito le caratteristiche di innovazione 4.0 diciamo che per quest'anno ancora un'altra novità di interesse prevista nella legge bilancio 2021 è stata la eliminazione completa ripeto per tutto il 2021 dell'IRPEF agricola cioè nel senso che nemmeno sui redditi dominicali e agradi e terreni si andrà a pagare IRPEF ok quindi per coltivatori diretti e IAP nonché anche per chiaramente le società semplici ok non ci sarà pagamento di IRPEF nemmeno sui redditi diciamo determinati catastralmente dominicali e agrari dei terreni ok c'è una misura che è stata prevista nella legge bilancio 2021 qua vado abbastanza velocemente perché manca ancora il provvedimento attuativo dell'agenzia delle entrate è stata prevista una misura di incentivazione per quelle imprese agricole che intendono sviluppare delle rete diciamo di e-commerce quindi c'è sviluppo praticamente c'è di infrastrutture volte in qualche modo a creare insomma una piattaforma di commercio elettronico quindi online quindi con relative vendite a distanza la norma dice preferibilmente a clienti finali esteri quindi è una previsione fondamentalmente orientata ad agevolare e rafforzare questo tipo di canale commerciale in questo caso viene fondamentalmente accordato un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute di fatto per imbastire queste piattaforme c'è di commercio elettronico ed è una misura sostanzialmente abbastanza ampia dal punto di vista temporale perché riguarda periodi dal 2021 quindi da quest'anno fino al 2023 ok siamo in attesa del provvedimento comunque attuativo come poc'anzi vi dicevo questa vabbè diciamo anche qui vado molto velocemente questa disciplina della riportazione dei terreni agricoli e delle partecipazioni serve a cosa? serve fondamentalmente nel caso in cui possano emergere ove insomma magari delle persone fisiche o anche delle società semplici intendano nel nostro ambito almeno parlando ok intendano vendere terreni agricoli e partecipazioni societarie e magari su sistemi estremi per eventuali plusvalenze l'esempio classico è un terreno agricolo che io compro magari l'ho comprato l'anno scorso e quest'anno decido di rivenderlo e magari ci margino riesco a determinare il mio vantaggio sicuramente un corrispettivo di vendita più elevato rispetto a quello al quale ho acquistato cioè tale bene in questo caso ho un differenziale che mi andrebbe a plusvalenza da tassare ordinariamente stiamo parlando questa previsione serve fondamentalmente a sterilizzare per dirla un po' semplicemente un po' a sterilizzare il carico fiscale cioè l'imposta ok su questa plusvalenza tradotto anziché magari pagare un importo IRPEF ordinariamente c'è previsto in una certa misura ok io che per i terreni agricoli ecco per dirla tutta è pari ad oggi al 26% 26% della plusvalenza anziché pagare il 26% ho la possibilità con diciamo così una perizia che mi indichi il valore del terreno agricolo delle partecipazioni che c'è dove di pagarci sopra anziché il 26% l'11% ok o l'unica soluzione o altre rate annuali poi anche qui diciamo qui entriamo nel mondo dei meccanismi previsti agevolativi previsti nel campo delle ristrutturazioni edilizie quindi voi sapete che ad oggi abbiamo una carrellata di disposizioni che riguardano sinteticamente le detrazioni per spese di ristrutturazione edilizie la famosa detrazione al 50% che è prevista per immobili residenziali ok quindi fondamentalmente abitativi anche rurali purché però residenziali e non strumentali ok allo svolgimento dell'attività agricola per intenderci non è che con questa misura del 50% possiamo andare a ristrutturare e avere agevolazione magari su stalle o capannoni che utilizziamo per l'attività ok imprenditoriale riguardo i residenziali a questa misura come sapete se ne affiancano altre abbiamo l'eco bonus il sisma bonus il bonus facciate cosa sono nella sostanza il sisma bonus è chiaramente una previsione di intervento che concerne la staticità degli immobili è il sisma bonus per esempio che dà diritto a una sua detrazione che è di base del 50% anche se si può alzare al 70% fino anche all'80% se andiamo a ridurre le classi di rischio sismico ok ecco il sisma bonus per esempio già a differenza della ristrutturazione edilizia è invece attuabile anche sugli immobili strumentali quindi detrazione classica 50% non riguarda gli immobili strumentali sisma bonus riguarda anche gli immobili strumentali e non soltanto gli abitativi e quindi può interessare all'azienda ancora l'efficientamento energetico quando voi sentite il famoso eco bonus quello del 65% ok anche questo riguarda gli immobili può riguardare anche gli immobili strumentali non soltanto quelli abitativi un esempio classico di intervento di efficientamento energetico riguarda fondamentalmente la sostituzione di caldaia a condensazione così come può anche riguardare appunto la sostituzione di finestre compensive di infisi e schermature solari altra misura che riguarda sempre gli immobili strumentali ecco perché in questa slide ho preferito raggrupparvi insieme ecco bonus di efficientamento energetico il bonus e il bonus facciate perché queste misure che voi vedete in questa slide possono riguardare anche gli immobili strumentali quindi con il bonus facciate recupero e restauro di facciate esterne voi potete portare in detrazione il 90% quindi diciamo che chiaramente queste sono misure che hanno una loro diciamo complessità applicativa questo prima di andarci un attimo a vedere il super bonus a 110% che è un'ulteriore misura che ben conoscete anche per insomma perché è molto attuale queste che vedete in questa slide sono quel gruppo di misure ok fiscali di vantaggio detrazioni che significa anche possibilità ad oggi sul 2021 anziché detrare per intenderci scalare da imposte se uno non ha capienza di imposte giustamente non se ne fa niente ma nel 2021 queste queste misure ok di agevolazione possono formare oggetto ma credo che ben lo sappiate di cessione a terzi solitamente banche le banche vi comprano chiaramente queste misure magari non ve le comprano chiaramente alle percentuali cui avreste ordinariamente diritto ma chiaramente a importi lievemente inferiori però sappiate che per il 2021 ad oggi appunto se fate interventi di questo tipo le relative misure sono accedibili appunto a banche o a qualunque soggetto terzo per intenderci che abbia interesse ad acquisirlo è stato detto questo giusto così per preannunciarlo da un po' dai rotocalchi televisivi informativi in generale che questo gruppo di misure inclusa questa precedente che abbiamo visto un attimo delle detrazioni per spese di situazione di edilizia queste misure dovrebbero essere un po' unificate in prospettiva dal governo unificate e trattate ad un'unica aliquota cioè di vantaggio il 75% cioè nella mente chiaramente ad oggi del governo l'idea è quella di unificare un po' tutte queste misure di metterle insieme e di dare semplicemente un'unica ok percentuale ecevolativa che attualmente vabbè stando a quello che si legge un po' sui giornali o si sente sarebbe pari al 75% poi andremo a vedere come intenderanno modularla sicuramente l'idea di unificarle potrebbe essere vantaggioso importante significativo perché ciascuna misura che vedete qui sinteticamente esposta ha poi una sua concreta declinazione come immaginerete particolarmente complessa cioè ogni misura ha le sue regole ha le sue insomma specificità che chiaramente non sono particolarmente agevoli un attimo da catalogare insomma da affrontare qui vedete bonus mobili e bonus verde anche molto velocemente il bonus mobili che cos'è è la possibilità sempre nel 2021 di agganciare alla misura questa qui che abbiamo visto della detrazione di spese per strutturazione dell'inizio al 50% ok di agganciare a questa misura anche la possibilità di fondamentalmente acquistare mobili ed elettrodomestici con una certa classe energetica non inferiore ad A plus A più o A per i forni che per quest'anno ecco diciamo è una misura che fino all'anno scorso era pari insomma a 10.000 euro massimo di investimenti in beni mobili cioè se investivo fino a 10.000 euro avevo un ritorno del 50% di 10.000 euro ok quest'anno questa misura è stata innalzata a 16.000 euro quindi abbiamo la possibilità di fare un investimento per beni mobili ripeto questa misura si aggancia a quella di ristrutturazione edilizia non è fruibile senza un intervento di ristrutturazione edilizia ok questa misura però si innalza a 16.000 euro consentendoci di recuperarne il 50% mentre il bonus verde è una misura che anche alcune aziende hanno chiesto è confermato anche insomma per il 2021 e riconosce una detrazione del 36% di ci quote annuali per le spese di sistemazione a verde di aree scoperte di immobili ad uso abitativo con una spesa massima di 5.000 euro per ciascuna per unità immobiliare ok andando molto velocemente adesso vedete qui in questa slide il riferimento al famoso super bonus 110% il super bonus del 110% fondamentalmente cosa è rispetto a quello che vi ho un attimo forse un po' velocemente detto sulle altre misure cosa è è chiaramente una misura che ha sue regole quella che chiaramente è stata varata già l'anno scorso nel decreto rilascio che è stata prorogata ok fino al 30 giugno 2022 adesso sempre da informazioni dell'ultima ora sembra appunto che sia stata che si intenda cioè confermarla anche per tutto il 2023 e forse la butto un po' lì con il forse e forse con una estensione ok anche alle imprese perché questa è una misura che ad oggi noi diciamo possiamo utilizzare sempre solo un po' come per la detrazione al 50% soltanto per interventi effettuati su immobili residenziali a carattere residenziale abitativo ripeto inclusi i rurali abitativi rurali abitativi non rurali strumentali ok quindi ad oggi questa mega misura che è senz'altro iper vantaggiosa è pensata ancora per le persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale in linea di massima i condomini però c'è ripeto in previsione l'idea del governo di proporne un'estensione anche al mondo delle imprese e plausibilmente forse anche e soprattutto alle imprese agricole quindi sicuramente questa è un po' l'intenzione che su questa misura ci sarebbe se sarà così sicuramente ritengo riteniamo che sia assolutamente una cosa importantissima staremo un attimo a vedere ad oggi questa misura è prorogata fino al 30 giugno 2022 e per i condomini fino anche al 31 dicembre 2022 ma con uno stato di avanzamento lavori al 30 giugno 2022 pari almeno al 60% dell'intervento effettuato diciamo che ad oggi questi interventi possono essere fatti anche dalle persone fisiche che sono magari uniche proprietarie o anche comproprietare di edifici che sono composti anche da due a quattro da due fino a quattro unità immobiliari distintamente accatastate questo perché perché prima della legge bilancio 2021 su questo tipo di edifici in realtà c'era una preclusione non era consentita l'applicazione di questa misura cioè praticamente l'agenzia dell'entrata aveva detto attenzione se abbiamo edifici in cui magari una persona fisica e lei stessa da sola titolare di tutto l'edificio che ha magari al suo interno anche più unità immobiliari distintamente accatastate oppure il caso in cui il proprietario unico in realtà aveva una percentuale perché magari in proprietà c'era il conigio magari il figlio ecco non potendosi configurare un condominio l'agenzia dell'entrata aveva escluso l'applicabilità del superbonus 110% invece la legge di bilancio 2021 è intervenuta a introdurre un po' ecco una una novità a precisare il fatto che se abbiamo edifici composti da due a quattro unità distintamente accatastate anche se abbiamo un unico proprietario di tutto l'edificio o una comproprietà magari anche familiare per dire marito moglie e figli si applica si potrà applicare ok questo tipo di disciplina del 110% sempre molto velocemente vabbè diciamo questi sono due misure che un po' lì necessitano di attuazione ancora una riguarda il bonus acquopotabile che è pensato sia per le persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa o professionale quindi persone fisiche cioè appunto privati puri e semplici che possono avere diciamo così diritto ad insomma un credito di imposta anche qui pari al 50% di spese che sono sostenute in questo anno e fino anche al 31 dicembre 2022 per l'acquisto di installazione di sistemi di filtraggio di mineralizzazione e addizione di entità carbonica di raffreddamento insomma tecnicamente parlando miglioramento qualitativo delle acque potabili ok e quindi se effettuiamo spese di questo tipo ci prendiamo un 50% fino a un massimo di 1000 euro per le persone fisiche private e fino addirittura a un massimo di 5000 euro per ciascun immobile destinato ad attività commerciale per i soggetti invece imprenditoriali perché questa è una misura trasversale cioè che riguarda sia i privati e sia diciamo gli imprenditori anche qui ripeto come dicevo attendiamo il provvedimento attuativo del direttore dell'agenzia delle entrate l'ultima per chiudere il bonus idrico questo è pensato appunto sempre per le persone fisiche residenti in Italia e questo è un po' il classico forse bonus che avete già sentito che è pensato per interventi che effettuiamo fino al 31 dicembre 2021 a sostituire diciamo degli elementi poi di arredo come base sanitaria in ceramica con apparecchia scarico ridotto e di rubinetria sanitaria soffione eccetera colonne doccia su edifici esistenti o singole unità immobiliari e anche qui insomma ne attendiamo l'attuazione questa è un po' ecco adesso interrompo un attimo la condivisione ecco questa è un po' una carrellata un po' veloce su questi temi che sicuramente poi in consulenza con le aziende necessitano inevitabilmente di approfondimenti specifici io mi scuso se ho corso un attimo perché chiaramente le misure sono tante e ce ne saranno chiaramente ancora perché la decretazione è abbastanza è sempre più frequente e continua sicuramente un po' amplificata c'è dalla pandemia covid ma in generale l'interesse e l'intenzione del governo anche in ottica di ripartenza ok delle iniziative delle attività imprenditoriali cioè post covid ecco diciamo che nel cantiere del recovery plan ci saranno sempre più chiaramente misure volte a sostenere e agevolare interventi del tipo di quelli che abbiamo esaminato nelle slide io vi ringrazio e passo la parola gentilmente a Maria Chiara e vi auguro insomma una buona serata grazie 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 Mario le informazioni erano ovviamente tante e molte quindi sintetizzarle ovviamente era necessario però ovviamente gli uffici sono a disposizione gli uffici territoriali l'ufficio provinciale per cui l'invito non vedo commenti in chat o mani alzate però insomma avete avuto una serie di spunti vi invitiamo eventualmente a chiedere maggiori informazioni vi ringraziamo per aver tenuto fino alla fine direi che sono state due ore estremamente intense ringraziamo i relatori il segretario di zona Mario Dotto Massimiliano Piori Roberto Gioberge Mario De Piscopo l'augurio di magari incrociarci su altre iniziative legate al Fammi Buona Terra e comunque insomma su altre attività sul territorio vi ringraziamo e buona serata a tutti grazie grazie arrivederci arrivederci alberto grazie